Buonasera e ben trovati l'appuntamento con notizie sportive di Brescia.tv. In apertura del nostro telegiornale parliamo di calcio mercato in casa Brescia. Il Brescia deve vendere, questo è il proposito del presidente Gino Corrioni che cerca acquirenti in particolare per Andrea Caracciolo. L'Aerone ha rifiutato dieci giorni fa il trasferimento alla Dinamo Kiev che offriva sei milioni di euro per il suo cartellino. Adesso il club di via Bazzoli tratta con il Bologna intenzionato a proporre quattro milioni. Il discorso dunque è aperto. Alla finestra c'è sempre il Napoli per quanto il suo tecnico Walter Mazzari non abbia avuto un grande rapporto con Caracciolo alla Sampdoria. E rimaniamo in casa Brescia conferenza stampa per il Brescia Calcio oggi a Palazzo Martinengo nella sala dello stadio della mostra del centenario. È stato presentato il ritiro di Temu. La squadra bianca azzurra sarà in Valle Camonica dall'11 al 28 luglio. E questa è l'unica certezza nella magmatica fase post retrocessione. La Leonessa va in ritiro a Temu. L'alta Valle Camonica sposa il bianco e il blu per l'estate. Fra prima squadra e primavera il Brescia alloggerà in altura per un mese intero a cominciare dall'11 luglio. Una soluzione promossa anche da Adamello Schi e benedetta dall'amministrazione provinciale di Brescia. Brescia, la Brescianità, la provincia di Brescia sicuramente sono dei binomi importanti, fondamentali. Siamo contentissimi che il Brescia torni dopo tanti anni nella provincia di Brescia per fare il ritiro estivo nella consapevolezza che è una ripartenza, una delle tante ripartenze che il Brescia ha avuto e mi auguro anche con tutti i tifosi che possano non solo andare a visitare Temu e l'alta Valle Camonica che è una bellissima zona provincia di Brescia ma che possono anche tornare ad essere vicini ad una realtà importante a livello italiano. Grande, la soddisfazione del sindaco di Temu? Esatto, ci prepariamo ad ospitare il Brescia per un mese dall'11 luglio all'11 agosto tra prima squadra e primavera. Per noi ovviamente è un orgoglio nell'anno del centenario ospitare la squadra a Temu anche perché l'investimento da parte dell'alta Valle Camonica e di Temu in particolare è stato di oltre un milione e setecentomila euro. Abbiamo fatto posto a questo campo per ospitare squadre di livello internazionale e quindi pensiamo di partire e di inaugurare la struttura nel migliore dei modi auspicando ovviamente che anche tutti i Bresciani possono salire a Temu per fare il Brescia e per vedere la nostra bellissima valle. La sede del ritiro con il periodo di preparazione è l'unica certezza di un Brescia depresso nell'anno del centenario. Squadra retrocessa, società da rinforzare ancora senza allenatore. Beh, sapete anche voi che ci sono in ballo delle situazioni particolari che andranno a termine a breve per cui era inutile avventurarsi in qualcosa che non aveva la certezza della sicurezza per cui credo che sia tutto nell'ordine delle cose. Adesso attendiamo, credo che nel giro di una settimana lo sviluppo del futuro sarà fatto con dati di fatto. Ma io non lo so se c'è stata un'offerta da parte del Brescia a Menechini, se ha detto il Presidente. Sì, credo che un allenatore debba necessariamente fare dei calcoli su se stesso, su quello che gli è stato offerto. Noi lo sappiamo, siamo una società in questo momento che è ancora in cantiere, usiamo questa frase, però credo che se Menechini ha rifiutato un'offerta del Brescia secondo me ha fatto un grosso errore. Menechini se ha tutti questi dubbi e tutte queste incertezze decida di rimanere a Crotone che con tutto il rispetto è comunque il Crotone probabilmente vuol dire che non era l'uomo giusto per il Brescia se ha scelto di di andare a Crotone. Avrà avuto i suoi motivi, non entro nel merito. Prima di parlare di programmi e di allenatori e di squadra ci sia da parlare di società, nel senso che voi sapete che la mia famiglia si sta dando da fare, si è data da fare, oltretutto non in prima persona ma tramite consulenti e studi di professionisti per poter trovare una una soluzione societaria che possa dare al Brescia un futuro migliore di quello che ha avuto fino ad oggi. Quindi quello è il nodo cruciale. Penso qualche giorno, qualche giorno questa settimana è cruciale sicuramente. Consolazione per la famiglia Corioni, l'amicizia di Ugo Calzoni, consulente in questa fase delicata. Sicuramente per quel che riguarda le sue competenze, la sua professionalità, la sua conoscenza del tessuto imprenditoriale bresciano, sì, poi lui oltretutto è un amico di famiglia di vecchia data, quindi il fatto che ci fosse la presentazione di una sede come Temu, che è ubicata nell'alta Val Camonica, era un motivo in più per lui per essere presente oggi. Nell'attesa e nella speranza che qualche industriale di buona volontà dimostri di volere il bene del Brescia. Nella seconda parte ancora tanto sport, prima una breve pausa pubblicitaria.